Non so che cosa è successo quel giorno. Il ghiaccio era sempre stato robusto, abbiamo sempre battenato lì, non era mai successo niente. Ma quel giorno è scivolato e il ghiaccio si è aperto, si è spaccato come un cristallo. Lui è scivolato dentro ed è sparito sott'acqua. Io sono andato a prendere un ramo, un bastone, qualcosa per aiutarlo, ma quando sono tornato lui era già sparito di sott'acqua e non ho potuto più fare niente. E così non l'ho vista più. E così non l'ho vista più. È perfetto, mi crederebbe anche un bambino. Grazie. Grazie. Grazie.